Ciao a tutti, siete pronti per un'immersione nella moda e nel glamour? Mentre a Pechino Express ufficio visti andava in onda, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno rubato la scena alla Milano Fashion Week, presentandosi insieme alla sfilata di Philip Lane. Prima di continuare, cliccate su iscriviti per essere sempre aggiornati e per darci il vostro prezioso supporto. Immersa nell'eleganza del Total Black, Oriana ha sfoggiato un abito lungo cut out con un blazer decorato da fulmini, firmato Philip Lane, un look che ci ha ricordato quello indossato da Antonella lo scorso anno. Antonella, d'altra parte, ha usato con un audace body nero dall'effetto pelle sulla parte superiore, abbinato a una giacca blazer ovviamente firmata Philip Lane. L'evento è stato un trionfo di stile e moda, con Antonella Fiordelisi che ha sicuramente lasciato il segno con il suo outfit audace. Che ne pensate di questo duetto di stile? E chi ha conquistato il vostro cuore, Antonella o Oriana? Fatecelo sapere nei commenti, siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni. E mentre vi godete la moda e il glamour, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati ai suoi vostri personaggi preferiti. Ci sono tante sorprese e contenuti interessanti in arrivo e vogliamo condividerli con voi. Iscrivetevi ora per non perderli. Grazie e alla prossima!